Quella che completa la gamma dell'Alpine A110 è una versione molto attesa, estrema, più leggera e più affusolata, ispirata al mondo delle gare automobilistiche. La nuova Alpine A110R è stata progettata per offrire sensazioni uniche in pista, pur essendo omologata per la strada. L'A110R si distingue per il lavoro di riduzione del peso che ha permesso di portarla fino a 1.082 kg, 34 kg in meno rispetto all'A110S. Anche l'aerodinamica è stata rielaborata per migliorare il carico aerodinamico e ridurre la resistenza. Per la prima volta nella gamma A110 alcuni componenti come il cofano, il lunotto posteriore e il diffusore sono stati rivisitati, diventando specifici per questa versione. Anche il telaio è stato oggetto di una messa a punto. Il motore 1,8 litri da 300 cavalli rende l'esperienza di guida più intensa con un'accelerazione da 0 a 100 km orari in soli 3,9 secondi. Alpine A110R è prodotta in Francia presso la manufattura alpine di Epp Genre Delay.